Sì, tutto bene. No, non ci credo, cosa è successo? Come è possibile? Come è tanto tutto possibile? Come è fatto? L'hai ammazzato così a caso? Ma porca puttana, non ti puoi permettere di fare dei cosi così, ma cazzo no! Tu adesso me la dai, porca puttana, me la dai! Cazzo no! Me la dai! Adesso tu me la dai perché io l'ho pagata e me la dai! Punto! Non è possibile, questo non è possibile, cazzo no!